Ciao ragazzi, bentornati nel canale, bentornati su Apex con il video del master nel primo split della stagione 21 di Apex Legends. Fatemi sapere con un commento come stanno andando a voi queste ranked. Io vi ricordo che stremo su Twitch tutti i giorni, quindi quando avete un po' di tempo libero passate e buona visione. Armor Red 1. Qualcuno? Crack un altro. Si è fatto la batteria in grosso. Crackati 2. E risalite. Trattato Red. Preso. Preso 1 full. Si è fullato, si è fullato, si è fullato. Full e tg non fare cazzate. Facciate insieme, ma facciate insieme siete full. Ma qui. Qui. Vado, vieni. Bravo. Subito. Eh, mi faccio il Phoenix io? Vai, buono. Bello g, bravo, bravo. Bello, bello, bello. Bello, bello, bello. Che c'olone che gli abbia dato. Chi? Tutti e due. Tutti e tre. Tutti e tre. Chi? Tutti e tre. In effetti. Una cella G, una cella. Troppa. Ho fatto il Newcast. Piano, piano, piano. Scopato. No, l'avevo una dietro. L'ultimo, l'ultimo. L'ultimo. L'esco, 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 l'esco. Questi qua, comunque, riusciamo a prenderne uno? Io non so perché sono un po' lontano. Eh, io non la vedo, purtroppo. Mi hanno pushato quelli dal centro. Sono troppo forte. Un'esotta. Traccata la conduit. Cavolo, a te, se ne so. Un'esotta. Distrutto uno sotto. Presa la conduit. I won la... Presa. Distrutta, le ho fatto 90. Uno cresce, uno cresce. Uno che fai? Eh, scusa. È morta di bruciatore. Ah, ma ce l'ha data la kill? Sì, sì, sì. Eh, ma a me non ha dato l'assist, però. No. Allora, ma c'è che l'ha presa qualcuno. No, forse l'ho presa io. No, l'ho presa io, l'ho presa io, sì. Beh, la tripla di Nico. Io ho quattro partecipazioni. Sì, ma rischiamo che ci arrivano da dietro, eh. Eh, lo so, però... Eh, aspettiamoli e basta. Eh, io li sto aspettando qua. Eh, c'è un po' di... Caccato? Rodo, prendo il punto, se muore. No. No, era un insieme, mi sa, eh. Ricarico. NicoMG Archivio è il mio secondo canale YouTube, dove quasi tutti i giorni carico video estratti dalle live che faccio su Twitch. Se siete interessati, lo trovate elingato nei commenti. Non è lì. Cioè, c'è da qualche parte, ma non è lì. Ah, l'ho visto uno. Eh, ma lei è un full team top. Ah, ma ho preso uno di un full team, raga. Eh, non lo so. Non bruciare nessuno, figa. No, no, è del team sotto, comunque l'ho preso, eh. Non del team top. Io comunque ne sento uno qua sotto da voi, boh. Eh, non lo so. Vabbè, ma c'è un ratto solo. Guaggio, ti revena sopra. Raga, revena sopra, un HP aveva. Fatto il vostro? Martto, sì. Vangano a quell'estrata, faccio amore. Sopra, io ne ho fatto uno, eh. Sì, sì, vabbè, ma non l'hanno neanche ressato. Non hanno ressato, non hanno ressato, eh. È qua da me, all'angolino qua. Potete anche aspettare. Ve lo dico, è qua. Eh, ora deve entrare, qua da me. Bello. Let's go. Da noi, da noi, forza. Sì, 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 sì. Su di noi, su di noi, su di noi, raga. Ma vanno lui? Uno è corto, uno è corto, prendiamo lui. Non lo è stato io. Buono. C'hanno un zippati? 140 al patto, sopra di noi. Preso. Guarda. Vediamo un amplificato. Sono sotto attacco. Lootatelo così. C'è gente da me, c'è gente da me. Lì uno. Audio. Non è un ratto, non è un ratto, sono blu. E uno è one shot. Non è un ratto, sono blu, uno one. Uscio con la sinistra. Craccato. Non l'ho preso, mannaggia il cazzo. Ma anch'io. Ma non si era fullato? Ma dai. No, si è avversato la scuola. Guarda, l'hai qua a destra. Noi siamo qua rimessi meglio, ma anche peggio. Qua, qua a destra, qua a destra dobbiamo guardare. Sì. Cavolo, ma c'è nero uno sotto al ponto? O se gli ho fatto 170 red? Aspetta, aspettiamo Nico, aspettiamo Nico. Mi pushano, mi pushano. Ho fatto 170 red a uno, l'altro mi ha pushato. One shot, one shot di Ravellant. Buono. Vieni qua Nico, eh, GG. Su, capace, respaness. Qua, qua, qua c'è nero uno sotto di noi. Fatto uno. Eeeeee. E' bengalo. Sto ricaricando gli scorsi. Vai, buttati, buttati, buttati. Risaliamo subito. Venite. G, andiamo contro l'anno un attimo lì. Perché mi sta... Aspetta, aspetta. Ma stanno... Ma stanno fettando da me un bel po'. Eh, ma abbiamo un ratto dietro. Ma un ratto è da me, un ratto è da me. No, il punto. E qua davanti... Qua davanti? Beh, mi dispiace. E là davanti mi sa che sono fu ti. Comunque dovresti stare da me. C'è, c'è l'italità. G, dove hai lasciato le energy? Eeeh. Oh. E' l'ultimo fu team. Dobbiamo guardarli a basso. Stanno restando. Quando sta per partire, ultali. Ok. Ma io posso restare di qua? Sì, dai. Oh, se vuoi. Eh, non pacco, loro venti, sorry. Se vuoi i prossimi giorni mi dite, mi organizzo e arriviamo... Facciamo più sessioni insieme. Adesso sono con lui. Sono con mio figlio Gishado. Undici anni, lo vuoi paccare. Ha finito scuola, quindi può anche giocare di più. La cinquantina. Traccato. Distrutto il Reb, il Reb è buono, il Reb è buono, il Reb è buono. Ho dentro. Non è dentro. L'altro, Bloody. Uno è sotto, uno è sotto. Uno sotto. Il Bloody è one shot di nuovo. Buono. Gli altri sono sotto entrambi. Sì, sì. Reb, da. Reb qua. Eh, distrutta la life frame. One shot life frame. Un altro che si roba. Oh, ok. Vabbè. Ho preso tutti molto bello. Poi ho finito con quattro partecipazioni, credo io. E abbiamo recuperato forse la metà dei punti persi contro i Six-Man stasera. Poi, chissà di quanto eravamo in negativo. Comunque l'avocchè è troppo forte. Vi pushano, vi pushano. Batta uno di vita, uno di vita, uno. Mannaggia il cazzo, raga. C'è la smoke, non vedo un cazzo. One clip, ori. Batta uno di vita, aveva. Gli ho fatto 149, zio, porco. Sta scappando. No, non ho preso il punto sul... Audio, audio. Serve una mano, eh? Sto arrivando. Siamo un po' più avanti. E' fatto 100. E' one, e' one. Vabbè, raga, uno si resta, l'altro si gode. Mamma mia, fuori ho il blast. Fredda tutti, Fredda tutti. Che cazzo che ha preso, voglio. Eh, li prendono anche sul primo. Ciao, miga. Quanto aveva il pat? Curiosità, perché veramente io gli ho fatto 150. No, ma gli ho fatto... Cazzo, ho sparato solo a lui. Ho guardato in alto a destra 150. Com'è che non l'ho killato? Vi muovete? Stiamo qua. Il chizio è lì. Siamo da sinistra, posso? Tutti e due da voi. Fittato? A uno. Oddio, due master. Che culo. Ah, io non ho preso il primo. Stiamo facendo, madonna, un botto di points. Come procedono queste ranked. Molto bene. Se questa partita facciamo top 5, è la partita del master, mi sa. Quattro punti tutti su... Quattro punti, tutti su master e pred. Quattro punti tutti su master e pred. Me ne mancavano meno di 200. Teleferica? Oh, arriva da me. Potrebbero essere i sei. Potrebbero essere i sei, hanno skin. Poi magari no, eh. Ma io lei non l'ho mai presa, purtroppo. Non venite, non venite. Non veniamo? Al massimo crepo io. Ma no, no, torna dietro, ha dovuto. No. No, dai, non sono six-man, non sono six-man. Sono dei simpaticoni. Qua davanti, qua davanti. Eh, raga. Che so, lì, ecco, c'è rete soli. Prendiamola, conferma, e ci leviamo. No. No, no, no. Eh, sono morti. Buono, la conferma è stata presa. Vai, vai, sì. Questo è il momento di Rattopos, di carriare una top. Comunque, e... Quel team era veramente six-man. Quel team era veramente six-man. Quel team era veramente six-man perché ne abbiamo fatti due skin verdi. E qua ce ne erano tre con skin verdi che correvano là davanti. Che erano i compagni loro. Probabilmente. Minchiaggi, Shadow. Ma chi sei, Andrea Pirlo? Ma lì sei, Kevin De Bruyne. No. Boh, se è qualcosa tu... Ma ce ne avete davanti? Dai. Eh, vai, vai, vai. Non intendevo lui, comunque. Io avevo sentito dei pasti. Ce ne avete là dentro la casa. Hai visto? Ma che cazzo dici? Che cazzo dico? Vai, vai, vai in casa. Non ti fermare, non ti fermare. Ma perché ti fermi? Te lo dico io? Eh, ma non poteva. Oh, no. Boh. No. Non hai i termici, vero? Game buonissimo buttato da Nico. Grande, Edo. Sì, sì, ma l'accetto la critica da... Aspetta... Dal platino 2. Buono? Forse se vieni da me sono full... Sono libero io, liberissimo se vieni ora. Dai, zio Kahn. Fraa... No, no, no. Cioè, re... Ma è l'ultimo! Dai! Ma non lo so, hai proprio capito? Però ero risabile da uno dall'altro dieci volte qua, zio Kahn. Anche Ressoro non l'ha fatto subito. Se l'avesse fatto subito, zio Porco, Ress Dorato... Ha fatto un bel po' di danni, eh? Quanti sono? Due? Due, due! Eh beh... Eh, non prendo i punti, che falle! Io non l'ho preso un cazzo qua, perché... Ma si è messo entrambi qua? Sì, sì, no, intendo di danni full carriato, godo. Però ho preso un botto di punti qua, li ho presi tutti. Tranne il Crypto, ovviamente. Grazie! Che master è fatto! What's that, daddy? Nico, l'hai fatto, l'hai fatto, guarda. Non l'ho fatto, stai trollando. Ma fatto di che, che dio caro? Ma va... Vabbè, in verità ho fatto mille danni, penso che ne hai fatti molti di meno. Otto punti! Le sgoschi! Perché è un po' di... No, no, è... Perché non vorresti leggere quello che ti scrivevo? No! Ah, l'ho fatto veramente! Oddio, tu l'hai fatto o no, vero? Merda, no, ma quasi! Nico, non ti fidi di me? Di me? Ma quanti cazzo di punti abbiamo fatto? Ma che poi, aspetta! Quanto ti dà... Di bonus rank up? Cioè, quando arrivi a master, quanti punti ti dà sopra il master? 250 è il bonus. Promozione ti dà 250 punti ti dà la promozione! Io sono a 15.250! Ciò vuol dire che il master l'ho fatto... Preciso! Cioè, ho fatto proprio i punti precisi! Boia!